Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Ma anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'odice più alto. Dai Gabbè! A parlare di mio fratello che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto al telefono giallo. Vengono lì, come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. E sullo sprovolteggio dei parenti li ho rivisti, belli, contenti, nello speciale Rappimetti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è un alfabeto, ma ha scritto un romanzo, è sempre lì da Maurizio Costanzo. E la fortuna di nonna fiera che ha ucciso l'amate con l'allupare, ha preso a vent'anni un giorno in fetura. Ma in televisione poi piangono. Mio zio travestito di nome Banda, fatti soldi, ha comprato una banda, da quando è andato a San Marcanda. Come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Chi c'è rimasto ha già accettito, completamente rincoglioni, che ho danzato lì, fabbricati, sta perdito. Io lì l'ho riprovato in tutti, beh. E alla fine c'è il nostro Renato, che c'ha l'Esta, quando è nato, ha avuto un torino fotonino d'amato. Ma gli chiedono gli autografi. Mi ha presentato la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Il bel paese sorridente, dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi. Pronto, 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 stiamo diventando tutti coglioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Pronto, 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 stiamo diventando tutti coglioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Grazie a tutti.